Fammi tutte le domande. Voglio sapere cosa hai fatto a Capodanno. Non ho più niente da raccontare. Voglio sapere cosa hai fatto a Capodanno. Non ho fatto niente. Come niente? Niente. Non ci credo. Dove hai festeggiato? A Via Reggio. Eh? Un'acqua, un freddo, un mal di schiena. Vabbè però. Che io non avevo neanche portato la Kiwi. Ma tutto a te succede? Ma scusa, ma... Io volevo morire lì. Ma adesso sta cosa della morte anche l'altra volta, non diciamo sempre sta cosa. Ma è un gioco l'amore. È un gioco però. Quest'anno è un anno importante per te. Eh, scusa eh. Perché? Cioè compi 90 anni. Cioè non è carino che me lo continui a rifiutare. L'hai detto tutto... Ma tu lo sai, ma... È vero. È vero. È vero, è andato di fatto. Non li avevo previsti. Cioè, voglio spiegare, ma è una cosa... È interessante perché quando uno ha questa età dovrebbe essere... Tutti dovrebbero venire a chiederti dimmi come ci si sente, dimmi le tue esperienze, dimmi... Anche tu chiedi. Ma io ho chiesto, ti chiedo tutte le settimane, ne parliamo sempre. Io cosa... Sì, come ti senti? Come ti sentiamo chiedendo? Non mi sento mica tanto bene stasera. Dimmi le tue esperienze. Non mi sento bene, sono triste. Perché? Cosa è successo? Perché? Perché sei triste? Guardi il capodanno di merda. Vabbè, questo è passato da due settimane, facciamocene una ragione. Per esempio, io siccome prima di mettere il famoso Pesmecher, bevevo con piacere. Adesso non posso neanche più bere. Perché mi faccio due maroni così. Vabbè, però Ornel, però... E tutto quello che mi faceva ridere prima, lo trovo poco da ridere. Ridevo perché ero ubriaca. Chiaro, no? Ubriaca. Brilla. Brilla. Allegra. Subi giri. Così. Esageriamo. Poi sono triste perché non capisco più niente. Apri la televisione, senti notizie terrificanti. Sì. Perché sono terrificanti. Però si interrompe con la pubblicità, con quella che fa. Tutti che ridono. Cosa ridono? Ma cosa ridono? Però, scusa... Ma cosa fanno? Cosa ridono? Ma si rendono conto di cosa sta succedendo? E però quella pubblicità... La Cina attacca a Taiwan e abbiamo chiuso. Vabbè, adesso non andiamo... Eh, guarda, è preoccupante. Io sono preoccupante. Senti, però ci sono dei privilegi anche a questa età, no? Cioè, poi ti chiedono le tue esperienze. E... Oh, non crede... Sì, un pochino. Eh, te lo chiedo. Anche tu, però, intanto... Anch'io te lo chiedo. Eh, chiedo, lo facciamo sempre. Per esempio, io non le avevo mai visti, no? Cosa? Tutti quelli negozi di cose mortuarie. Onoranze funebri, sì. Onoranze funebri. Cioè... Ma hanno delle vetrine ormai meravigliose. Ma scusa, tu... Come neanche Armani. Cioè, vuol dire che con tutti sti vecchi... E allora io, che prima non ne guardavo... Ma non guardare. Le continuo a incontrare... Facciamo tutto noi. Non è bello. Ma tu passi le giornate e vai a vedere le vetrine, no? Ma no! No, le incontri. Ma passando con la macchina... Eh, cazzo, ne beh, è pieno. Diciamo la verità. Secondo me è stato un capodanno molto faticoso. Mi stava dando una ricetta di bellezza, dicevi che... Sì, con il riso che le donne giapponesi... Si mettono l'acqua del riso... L'acqua del riso... Si. Si scola poi nel colino... Si, si fa... Si filtra. Si filtra. E poi si mette nel... Ghiaccio. Si fa ghiacciare. Se vuoi fai dei cubetti. Eh? E questi cubetti te li passi qui e diventi bellissimo! Ma anche con il riso allo zafferano... Dovesse il riso in bianco. Va bene. No, dicevamo dei privilegi dell'età. Polletti. Privilegi dell'età. Quello polletti. Per esempio, no? Cioè, ci sono delle cose che adesso... Potrei fare e che non facevi prima o che non... Potrei non fare quello che non mi va di fare. Eh, che già mica poco. Che è già una cosa... No, in generale uno può sempre fare e non... Eh, però... Per esempio potrei dimenticarmi all'improvviso le parole dell'appuntamento. Certo. E' una certa età si è dimenticata. Potrei... Non venire alla puntata. Eh no, quello no, scusa. Quello no, è brutto. Potrei... Dire cazzo. Eh? Dire cazzo. Quello lo dici lo stesso. Quello lo dici a prescì. Però, ecco, a proposito ho sentito la... La Letizietta. Sì. Che si è rotto. Ma tu senti solo quello che vuoi, cioè... No, scusa, un momento. La Letizietta... Eh. Allora, io ho un amico... Però adesso... E mi ha detto che si è rotto. Io due... Io e due non posso reggerle. Mi ha detto... La stessa puntata non posso. Mi si è rotto... Eh no. Troppo. Che devo dire mi si è rotto. Io ho detto ma come si rompe? Non si può rompere il cazzo. No, ma... Scusi, bene. Sì, sì. No, ma... Non si si è rotto. Ma per esempio... No, ma non si è rotto. Sì, ho capito, ho capito. Ma ho da dire... No, ma non entriamo nei dettagli. E invece si è stortato. Si è stortato, va bene. Non si è rotto. Ha preso una forma tipo... Va bene. Un croissant. Un croissant. Un croissant. Ancora un privilegio. E dice che ha... Un successo pazzesco. Pazzesco, Ornella. Perché è rotto. Ornella, sì. Perché è torto. Sì, sì, si è capito. Ornella. No, stavamo parlando dei privilegi dell'età. Sostanzialmente si può dire quello che si vuole. Questa è la sintesi.